Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ex carabiniere ucciso con tre colpi di pistola mentre passava lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli a Ascoli Piceno, si indaga a tutto campo Pari nella notte, in pieno lockdown un venunciato per bracconaggio, un uomo che cacciava animali vicino alle case Lamente le proteste da parte degli automobilisti per le lunghe code provocate dai lavori stradali sul ponte Metauro a Fanno Incidente stradale a Torrette di Fanno Auto si ribalta, ferite una donna di 40 anni Aiutate la gente a ricostruire i rapporti sociali e l'appello dei vertici acri in occasione della riappertura di circoli e centri sociali Riaperto a Fanno il circuito ciclistico Marconi Nuove regole e orari per l'impianto sportivo più utilizzato dagli amanti dello sport Una ditta di Pesaro dona una bici ecologica alla città per favorire e sponsorizzare la mobilità sostenibile Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Come avete sentito dal nostro sommario La cronaca in apertura è stato ucciso con tre colpi di pistola Antonio Cianfrone, ex carabiniere di 51 anni mentre transitava lungo la pista ciclopedonale in frazione Sampio di Spinettoli ad Ascoli Piceno La vittima originaria di Chieti era stata in servizio alla stazione di Monsan Paolo del Tronto dove risiedeva per poi essere allontanato dall'arma a seguito di un suo coinvolgimento in una inchiesta per concussione Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che si tratti di una vera e propria esecuzione a sparare una persona con il volto coperto da un casco che poi è fuggita in sella di una moto guidata da un complice che lo stava attendendo a pochi metri di distanza Al momento non viene tralasciata alcuna pista fondamentali saranno i rilievi scientifici sulla scena del crimine e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza Il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti ha lanciato un appello alla cittadinanza Chiunque questa mattina fra le 7 e le 9.30 si è trovato a passare per la pista ciclabile Lungo Tronto da Pagliare a Monte Prandone è pregato di presentarsi ai carabinieri anche se non ha visto nulla di particolare L'obiettivo è quello di trovare testimonianze utili a risolvere il caso e adesso una presunta attività di bracconaggio invece ad Urbino la polizia ha scoperto un 44enne che sparava di notte vicino alle case l'uomo si è giustificato dicendo che stava sparando soltanto agli animali che stavano rovinando le sue colture Ho sparato agli animali vaganti nel mio terreno che hanno calpestato e rovinato le colture è la giustificazione data da un 44enne alle forze dell'ordine che lo hanno fermato l'uomo residente a Urbino è stato infatti denunciato per porto abusivo di armi da fuoco uso di dispositivi per illuminare i bersagli in ore notturne ed esercizio della caccia in un periodo di divieto la vicenda ha avuto inizio lo scorso aprile quando al commissariato di Urbino sono arrivate segnalazioni su una presunta attività di bracconaggio in una zona di periferia non lontana dalle case è stata così avviata un'indagine con servizi di appostamento tra le località di Mazzaferro Biancalana Tufo e San Cipriano poi la sera del 30 maggio l'ennesima segnalazione a quel punto gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno individuato l'uomo il 44enne era in possesso di una carabina allestita con un dispositivo ottico di precisione di illuminazione notturna dei bersagli ai poliziotti però ha dichiarato di aver sparato in direzione di alcuni animali nel terreno di sua proprietà perché stavano rovinando le colture oltre alla denuncia alla procura della Repubblica all'uomo sono stati sequestrati il fucile e le 39 cartucce inoltre essendo sprovvisto di licenza di caccia perché titolare solo di quella per il tiro a volo nei suoi confronti è stata avviata la procedura per il ritiro sia di questa licenza sia di tutte le armi in suo possesso invece i militari della guardia costiera di Fano hanno sequestrato una rete da pesca di circa 100 metri di lunghezza che era stata sistemata abusivamente in località Baia Metauro nelle vicinanze della foce del fiume l'autore dell'attività illecita è stato individuato dai militari sanzionato con un verbale di 1000 euro incidente stradale invece lungo la statale 16 un incidente autonomo poco prima dell'incrocio per torrette di Fano in direzione Pesaro oggi pomeriggio intorno alle 15 una signora sulla quarantina è uscita di strada finendo capovolta con la propria auto a bordo del mezzo una Fiat Punto di colore bianco c'era anche una coetanea soccorse dal 118 sono state trasportate all'ospedale di Pesaro le due donne residenti nel comune di Mondolfo hanno riportato diverse lesioni ma non sono in pericolo di vita sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Fano per i rilievi di legge e sono ancora ad accertare invece le cause dell'incidente ma è probabile che siano da ricondurre ad una distrazione della conducente e adesso invece parliamo dei controlli del fine settimana controlli che si sono protratti per tutto il ponte del 2 giugno controlli che hanno effettuato tutte le forze di polizia in particolare nei luoghi della Movida vediamo i controlli relativi all'applicazione delle misure di contenimento anti-covid-19 per il dispositivo di sicurezza che ha visto coinvolti diversi corpi di polizia hanno portato risultati complessivamente positivi nello scorso fine settimana compresi i giorni del primo e due giugno sono state controllate 2239 persone e contestate 41 violazioni nello stesso periodo sono stati controllati anche 606 esercizi commerciali senza però rilevare illeciti con quelli di ieri dall'inizio dell'emergenza i controlli sugli spostamenti hanno raggiunto complessivamente il ragguardevole numero di 81.000 controlli con 1985 contestazioni di violazione mentre per gli esercizi commerciali il numero totale dei controlli ha raggiunto quota 32.000 l'adozione di ordinanze da parte dei sindaci dei comuni costieri che hanno imposto nelle aree dei rispettivi centri abitati interessati dal fenomeno della movida l'uso delle mascherine ha certamente agevolato il compito delle forze di polizia sia in chiave di prevenzione che ai fini della contestazione di eventuali violazioni nelle norme di comportamento ha commentato il prefetto la polla che sottolinea come il senso di responsabilità dei cittadini è il primo strumento di prevenzione attraverso il quale è possibile scongiurare sia l'adozione di provvedimenti di divieto e anche di limitazioni più restrittive che potrebbero così andare a incidere negativamente sulla piena vivibilità delle zone e delle aree di ritrovo delle nostre città tante sono le lamentele per i lavori che si stanno protraendo sul ponte metauro moltissimi gli automobilisti in coda anche oggi e siamo andati ad ascoltarli da venerdì scorso 29 maggio passare il ponte metauro sia in entrata che in uscita è diventato per migliaia di utenti della strada una vera forca caudina code spesso anche di chilometri soprattutto in entrata provenendo da sud si formano con le auto incolonnate che arrivano fino alla chiesa di Metaurilia ed il serpentone di automezzi invece in uscita che si snoda su tutto il quadrilatero ed arriva anche su Viale Piceno la causa di tutto questo è il senso unico alternato con presenza di semaforo disposto dai tecnici ANAS non curanti affatto della coincidenza con la riapertura della fase 2 per motivi precauzionali si legge nella fredda nota emessa dalla società del gruppo FS in seguito ad un'ispezione programmata sono in fase di affidamento esami strumentali ed indagini tecnico preliminari alla progettazione di lavori di ripristino che consentiranno la riapertura delle limitazioni e dove nella nota non compare il ben che minimo cenno di scuse né all'utenza né alla città per i notevoli disagi che tutto questo inevitabilmente comporta cosa che non sarebbe stato certo sgradita lo mandiamo con la coda stamattina per venire a Fano da Metauriglia qui un'ora da Metauriglia lì un'ora sono partito di solito mezz'ora a Riglia Fano ancora giro ho dovuto prendere l'autostrada autostrada per non essere l'autostrada è peggio che peggio fanno i lavori è una roba inconcepibile proprio lavorare così lavorare così no 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 non si può non bisogna che si organizzano perché qui la colonna c'è da qui da giù fino a Metauro giù giù ancora voglia quante volte è la pasta quasi tutti i giorni lavoriamo a Fano al porto avanti e indietro ma perdiamo un sacco di tempo da Senigallia venire lì a Fano quasi due ore ma non è solo l'utente della strada a subire i disagi di questo modo di procedere di Anas anche tutti i residenti della popolosa frazione di Tombaccia quelli per intenderci di là dal fiume da un disagio specialmente di chi lavora molto notevole io non mi chiedo vabbè non avranno visato in tempo l'Anas al comune ma era da da sistemare l'altra strada magari e poi si potevano fare i lavori di qua però comunque è un disagio è grosso noi qua nella zona della Tombaccia diciamo non c'abbiamo né una farmacia non c'è niente c'è solo un piccolo alimentare ma per fare spesa e varie cose tipo farmacia posta così dobbiamo sempre attraversare il ponte come come andiamo con questo ponte c'è la bretella fatta finita fatele aprire meno evitiamo i casini qua quella strada che è pronta quella che esce qua a San Costanza da quanto sei in coda dai 5 minuti ancora ancora presto si ci passi molte volte qui si abito di là dal ponte com'è con questo blocco eh insomma sta poi sotto il sole eh no comunque tutto bene va bene insomma si si facciamo andare bene dai se no bisogna essere un po' positivi un po' di coda insomma non guasta no va bene va bene dai cerchiamo di essere positivi perché se no qua non si va più avanti adesso fanno questo lavoro qui non va non si poteva fare prima lunedì martedì un'ora buona soprattutto per arrivare e l'ulteriore conferma che questa situazione non è una situazione che si risolverà a breve termine sta nel fatto che questa mattina una ditta incaricata ha messo due semafori in pianta stabile che sostituiranno quelli mobili di questi giorni rimarrà penso sulle tre sedimane massimo un mesetto ancora non ci hanno detto niente di preciso adesso stiamo facendo solo l'impianto elettrico per l'impianto semaforico momentaneamente c'è solo la chiusura al traffico pesante vedo che debbano vedere la staticità del ponte devono fare ve lo devono tenere monitorato riaprono i centri sociali i circoli ricreativi e i rappresentanti delle ACLI hanno lanciato un appello per tornare il prima possibile alla normalità secondo loro i circoli dovrebbero aiutare le comunità a ricostruire le relazioni sociali perse in questi mesi di lockdown al via dal primo giugno anche i centri sociali e i circoli culturali e ricreativi a deciderlo il presidente delle marche Luca Ceriscioli che ha firmato un decreto con il quale si è aggiunto un ulteriore tassello al panorama delle attività consentite nella fase 2 l'obiettivo è stato raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra regione e il forum del terzo settore il protocollo che contiene le linee guida tiene conto del fatto che in questi luoghi vengono svolte diverse attività spesso anche in contemporanea e implicano l'incontro e la permanenza dei frequentatori per finalità aggregative come forum del terzo settore marche assieme alla regione abbiamo fatto un percorso condiviso sulla base anche delle linee che aveva data la conferenza delle regioni venerdì 22 maggio a quanto sappiamo noi dei nostri circoli sono questi i primi che si stanno muovendo perché le norme debbono essere rispettate nella loro interezza quindi tutta la partita delle norme va rispettata perché il principio fondante è la tutela della salute dei nostri soci dei nostri volontari dei nostri dirigenti e di chi anche voglio dire per vari motivi viene a contatto con i circoli anche le ACLI per Tomassini devono dare un contributo alla collettività ricostruendo le relazioni sociali perse in questi ultimi mesi il rapporto interpersonale ha detto è il principio fondante delle nostre organizzazioni associative oggi noi pensiamo di riprendere un processo anche di cura di cura da punto di vista delle relazioni e di cura da punto di vista psicologico di persone che hanno vissuto anche lutti e quindi c'è anche l'esigenza dell'elaborazione dei lutti per le quali l'attività di stare assieme ha anche questa finalità importante e l'altra l'altra attività che noi abbiamo consigliato i nostri circoli è quello di mettersi a disposizione delle loro comunità delle loro associazioni di volontariato delle loro carita sparocchiali affinché il circolo diventi un soggetto attivo dell'aiuto a quelle famiglie a quelle persone più in difficoltà che in questo momento hanno necessità di avere un accompagnamento una relazione diciamo nello spirito della solidarietà su 48 circoli nel pesarese ci spiega invece il presidente provinciale Acli Diamantini non tutti hanno riaperto alcuni infatti si stanno ancora organizzando per adeguarsi alle linee guida tra queste rientra la formazione del personale la pulizia di locali e attrezzature oltre alla mascherina obbligatoria per le attività sportive o motorie che non comportano un significativo impegno cardiorespiratorio come il gioco delle bocce e il biliardo più importante è sempre le solite che vengono dette il distanziamento sociale e il fatto di non scambiarsi le cose tra i soci quindi uso della mascherina le classiche diciamo disinfestazioni prima dopo igienizzazione delle mani via dicendo ecco sono tutti sono tutti prescrizioni che penso che col tempo andranno a calare perché l'andamento è positivo quindi andranno ad attenuarsi ecco diciamo a migliorare quindi anche i rapporti sociali perché noi siamo basati sui rapporti sociali quindi il distanziamento sociale è un po' ai rapporti sociali e per tutti gli amanti dello sport a Fano è stato riaperto questa mattina il circuito Marconi ma attenzione ci sono nuove regole e nuovi orari chiuso chiuso per le esigenze legate al covid 19 il circuito ciclistico Marconi è stato riaperto dall'amministrazione comunale di Fano in questi mesi intanto sono state apportate alcune migliorie all'impianto sportivo più utilizzato dai cittadini ma come spiega l'assessore allo sport Caterina del Bianco sono cambiati gli orari e alcune regole sempre per esigenze legate alle norme anticontagio oggi riapre il circuito Marconi quindi si possono riprendere le attività di ciclismo di podismo di patinaggio ci sono alcune novità quindi ci tenevamo a ricordare che questo circuito nasce come impianto per il ciclismo per la società ciclistica Alma Juventus che fa attività giovanile con i ragazzi e ci sono dei giorni in cui è previsto solo l'accesso per i ciclisti quindi il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 17.00 alle 19.00 solo ciclismo e si troveranno quindi gli ingressi sorvegliati non si entra per il resto vale sempre la convivenza civile rispettando le regole qui è presente anche la società che gestisce per il comune la manutenzione ordinaria e sono state apportate migliorie naturalmente l'impianto è molto grande sarà sempre nostra premura tenerlo al meglio anche perché è stato recentemente riasfaltato con un fondo del CONI quindi anche attualmente l'immagine è veramente funzionale e speriamo di ritrovarlo pieno di atleti pieno di persone i frequentatori del circuito dovranno poi controllare la cartellonistica per seguire e rispettare il giusto senso di marcia nelle entrate dagli appositi cartelli viene segnalata la direzione sia per i mezzi con ruote quindi cicli e pattini che per i podisti quindi ricordiamo a tutti gli utenti di utilizzare scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica quali interventi avete eseguito abbiamo mantenuto il livello dell'erba a condizioni accettabili di altezza e sono stati ripristinati tutti i 66 pali con i lampioni che erano ammalorati infine alcune nuove regole riguardano gli accessi le norme CONVID non prevedono naturalmente assembramento questo è chiaro non prevedono anche la compresenza di più sport attualmente alla pista di atletica e al baseball entrano solo i soci e i tesserati quindi un'accortezza in più nelle prenotazioni e si deve evitare quindi la promiscuità è anche non organizzata tutto è molto più preciso quindi chiediamo veramente il rispetto delle regole almeno per questi mesi estivi e adesso invece andiamo a Pesaro dove un'azienda del posto ha donato alla città una bici in polistirolo che servirà per incentivare l'utilizzo delle due ruote Gli artisti del polistirolo ecologico si chiamano Diego Sant'Angeli e Giacomo Bertozzini sono i due dipendenti della Polipast che per 15 giorni hanno scolpito con la Fesatrice una bici alta quasi un metro e mezzo il materiale può essere riciclato le ruote presentano inserti in plexiglass bianco e rosso con l'incisione stilizzata della palla di pomodoro e la scritta Ui Pesaro l'opera donata alla città in occasione della giornata mondiale della bicicletta è posizionata in piazza della libertà questa scultura è realizzata con i nostri macchinari ed è fatta con polistirolo non di origine dal petrolio ma da origine rinnovabili da materie rinnovabili e questa è la grande novità che ci permette di avere una produzione ecologicamente sostenibile ovviamente il prodotto che si ottiene nella molecola è esattamente la stessa di quella che si ricava dal petrolio e quindi diciamo il fine vita è esattamente uguale il prodotto è esattamente uguale al polistirolo che tradizionalmente conosciamo e sappiamo c'è un impegno costante per poter utilizzare a parità di prestazioni sempre meno materia prima e poter garantire e poter garantire quindi diciamo parità di prodotto con meno materia prima meno consumo e meno richiesta di comunque materie prime rinnovabili e anche non rinnovabili la bici sarà illuminata di notte con luci led e secondo il vice sindaco Vimini e l'assessore Belloni potrà diventare un nuovo punto selfie per turisti durante la stagione simboleggiando lo spirito green della città è un'opera carina simpatica e sicuramente magari anche i turisti che ci auguriamo ricomincino a vivere la città magari vengono qua si fanno una foto dietro la bicicletta nella città che ha 90 e passa chilometri di ciclabile è un segnale anche di vicinanza tra amministrazione e aziende del territorio l'azienda che ha donato il prodotto ha sottolineato che l'opera resterà in piazza almeno fino alla termine dell'estate si pensa per il futuro alla realizzazione di opere simili da posizionare nelle rotonde in modo da ribadire ulteriormente l'identità di Pesaro poi l'assessore Belloni ha fatto un'osservazione sulla mobilità sostenibile annunciando che dopo la flotta di monopattini elettrici a breve ci sarà anche l'arrivo di bici a pedalata assistita e l'edizione del telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi ricordo domani sera la seconda puntata di Colli al Metauro riparte dalla bellezza e domani mattina alle 7 invece l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa occhio ai giornali grazie per essere stati con noi arrivederci a Autore dei sovrapposti